Che cosa intende fare la Regione Liguria per quanto riguarda il regolamento legato alla polizia locale? Intanto sono venuto qui perché su solicitazione delle principali sigle sindacali del Corpo di Polizia Municipale per accertarmi di persona di quelle che erano le criticità del trasferimento che dovrebbe essere imminente da parte del Corpo di Vigili Urbani da una sede a un'altra sede. Poi a riguardo, siccome sto incontrando diversi corpi di Polizia Municipale sparsi per la provincia e anche per la Regione che più o meno lamentano tutte, al di là delle carenze di organico, di mezzi, anche problematiche dovute alle dotazioni che servono al Corpo per svolgere le principali mansioni. Io capisco le criticità, noi capiamo come Regione, le criticità economiche che hanno tutte le varie amministrazioni comunali. Detto questo cercheremo di aiutare sempre più questi enti a fare in modo che corpi come quelli della Polizia Municipale che una volta, mi riferisco agli anni passati, si limitavano soltanto a ordinare amministrazioni, contravenzioni e quant'altro oggi stanno effettuando tutta una serie di controlli e azioni di Polizia molto utili per il territorio ma nello stesso tempo per loro stessi che lo fanno pericolosi.